Giorno 404. Oggi i combattimenti più intensi sono avvenuti a Est. A causa delle recenti nevicate della pioggia le battaglie si sono spostate dai campi aperti alla città e i russi hanno sfruttato la situazione aumentando la disponibilità di artiglieria e concentrando il fuoco sulla parte centrale della città. Tuttavia questo abuso di artiglieria ha messo i bastoni tra le ruote alle loro stesse unità d'assalto poiché ha creato una muraglia di macerie che separa posizioni ucraine da quelle russe. L'ultima volta abbiamo visto le forze russe ottenere i risultati nella parte centrale della regione e la loro ulteriore espansione. Gli ucraini sono stati costretti a ritirarsi ma hanno minato e fatto saltare in aria edifici tatticamente importanti per evitare che i russi potessero sfruttarli. Nella notte di due giorni fa il capo della Wagner, Pugosin, ha annunciato di aver raggiunto un'altra strada nella parte centrale della regione e stabilito completo controllo sul municipio dove ha eretto le bandiere russe e della Wagner. Si è poi scoperto che l'edificio era completamente distrutto e le bandiere si ereggevano su pile di macerie. Non si sa ancora se è stato distrutto da un'esplosione, artiglieria o se a causa dei pesanti combattimenti si è collassato. I combattimenti in questa zona sono incredibilmente pesanti. Le forze Wagner devono combattere per ogni singola casa e ogni edificio è ben fortificato, essendo gli sforzi di trinceramento iniziati a dicembre. Pugosin ha ammesso che l'avanzata è lenta poiché ogni finestra ha una potenziale posizione di fuoco e nido di mitragliettrice che gli ucraini possono usare quando vogliono. Anche gli ucraini tuttavia ricevono fuoco pesante. Ed ecco perché le strade sono coperte di macerie. A causa del costante uso di artiglieria da parte dei russi, gli ucraini sono costretti a correre appena escono dalle loro coperture anche se non sono in una zona in cui si sta combattendo. Il recente deterioramento della situazione atmosferica ha favorito di molto i russi. Non potendo combattere nei campi infatti hanno potuto concentrare tutta la loro artiglieria su Bakhmut e con un aumento dei bombardamenti gli edifici usati come fortificazione dagli ucraini hanno vita breve, il che permette ai russi di avanzare. Nella parte sud la 93esima brigata meccanizzata ucraina continua a mantenere la posizione. Video recenti mostrano che correntemente sono in difesa attiva e provano a contraattaccare quando possibile. Ieri un operatore di droni della 93esima ha aiutato a eliminare una squadra russa che ha provato a nascondersi in una casa nella periferia. L'alto livello di coordinazione tra drone e artiglieria ha portato all'eliminazione di centinaia se non di migliaia assaltatori russi solamente nei sobborghi a sud, essendo questo tipo di video rilasciato giornalmente. Nella parte nord della città i combattimenti più intensi avvengono nell'area industriale. Video recenti indicano che i combattimenti sono localizzati in via Sadoy-Provulok. Prove video, mostrano la difficoltà di passare da un'officina all'altra e il perché delle alte perdite degli attaccanti. Il primo distaccamento di confine ha aperto buchi nelle mura di cemento per poter lanciare granate e sparare con armi e RPG. In generale, il cambiamento della situazione atmosferica ha causato l'intensificarsi dei combattimenti dentro la città, essendo l'unico fronte su cui si può combattere. Il tempo ha favorito i russi che hanno potuto concentrare l'artiglieria su un solo punto anziché doverla spargere su diversi bersagli e fronti, il che distrugge edifici e posizioni più velocemente. Tuttavia, gli ukraini sono in grado di mantenere stabili il fronte nord e sud. I pochi progressi fatti dai russi sono solo grazie alla totale demolizione dell'aria, cosa che si è trasformata in un ostacolo. Le macerie riducono ulteriormente la loro stessa avanzata e distrugge potenzialmente utili fortificazioni che potevano essere usate dalle truppe russe. Grazie per l'ascolto, anche per oggi è tutto e vi do appuntamento al prossimo video.